Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura in scadenza il prossimo 25 settembre, potrebbe essere il candidato alla presidenza della Regione per il PD. Le indiscrezioni in tal senso si rincorrono a ritmo frenetico. Sul nome di Legnini, oltre al PD, potrebbero confluire anche alcune liste civiche orientate verso il centro-sinistra. L'attuale governatore Luciano D'Alfonso, invece, sarebbe fuori dalla partita e dunque si accingerebbe ad oppettare per l'elezione al Senato e a seguire, da osservatore attento e interessato, gli sviluppi della vicenda. Peraltro, secondo molti osservatori, questa volta il candidato presidente spetta ad un esponente politico del Chietino e Giovanni Legnini rappresenta proprio quel territorio. Nel versante opposto è stata sancita, sabato scorso, nel corso di una riunione tenutasi a Pescara, l'unità di tutta la coalizione di centrodestra. Notizia questa che dovrebbe fugare ogni dubbio su una eventuale intesa Lega-Movimento 5 Stelle, ma le ultime vicende romane, circa il crescente attrito tra Lega e Forza Italia, sulle nomine RAI e sul decreto dignità, potrebbero rimettere in discussione l'alleanza. Il coordinatore della Lega, Giuseppe Bellachioma, che ha convocato la riunione di sabato scorso, da noi interpellato, ha dichiarato. Stiamo vivendo un particolare momento politico, ma io sono convinto che l'unità della coalizione sia necessaria per vincere le prossime elezioni regionali, anche con l'apporto fondamentale delle liste civiche. Circa il nome del candidato presidente Bellachioma non si è sbottonato più di tanto, ma ha confermato che spetta alla Lega non per un capriccio, ha detto, ma perché i sondaggi prevedono una forbice tra il 20 e il 25% di consensi al mio partito. Sulle ipotesi di candidatura alla presidenza, però, Bellachioma qualcosa di più lo ha detto. Avevo già proposto Fabrizio Di Stefano agli alleati, ma qualcuno ha preso tempo, ha svelato il coordinatore leghista. Comunque, ha aggiunto, l'aspirante presidente potrebbe essere anche una personalità della Lega esterna alla regione. Lui non lo dice, ma i soliti bene informati hanno fatto circolare il nome di Alberto Bagnai, economista toscano, eletto al Parlamento con la Lega lo scorso 4 marzo in Abruzzo, insieme a Luigi Deramo e a Giuseppe Bellachioma. Bagnai è anche professore associato all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Il Movimento 5 Stelle, infine, in corsa solitaria, potrebbe puntare sulla candidatura di Sara Marcozzi alla presidenza, ma dovrà essere scelta dagli iscritti attraverso il sistema Rousseau. Intanto, il Consiglio regionale si appresterebbe a modificare la legge elettorale per reintrodurre il voto di giunto fra l'elezione del presidente e quella del consigliere.